e l'avezzani ne spara ancora una delle sue lo rimpiangeranno dice mamma mia perché non ho voglia di dire tante parolacce allora mi limito iscrizione campanellina pollice in benzinero che completamente gratuito ravezzani dice che il milan rimpiangerà di non avere acquistato botman avessi detto il difensore più forte del mondo rimpiangerà secondo lui perché il milan praticamente con attaccanti come zapata come lukaku che sono fisici fa fatica nelle palle inattive fa fatica anche a segnare nel gioco inattivo tanto che i difensori del milan non hanno fatto molti gol su calcio d'angolo o su queste occasioni da rete da queste palle inattive vi dirò e ti dirò a terra vezzani se tu vai a guardare la classifica nella voce gol subiti il milan è quella che ha subito meno gol di tutti a pari merito col napoli quindi io penso che il problema del milan non è rimpiangere botman perché sono convinto che non rimpiangerà proprio nessuno però da voi me lo aspettavo questo tipo di intervento perché siete quelli che hanno detto che il milan avrebbe rimpianto donna rumma e invece il milan donna rumma non l'ha rimpianto perché ha preso magic mike poi avete detto che avrebbe rimpianto cialanoglu perché cialanoglu nel tipo di gioco di pioli era fondamentale e abbiamo vinto lo scudetto ne avete dette di cazzate e questa è solo una delle tante poco ci importa a noi botman ve lo dico subito non ce ne frega non lo rimpiangeremo per niente sicuramente arriverà qualcun altro quindi mi sento abbastanza tranquillo raga secondo voi rimpiangeremo botman oppure no iscrivetevi al canale scrivetemelo sotto nei commenti sempre forza milan